Sono, non è che arrivano i biglietti, si prendono ok perché abbiamo già pagato, abbiamo pagato, poi dopo è arrivato appena dopo parto e i biglietti poi se ne danno quando non si sa, si sale sul paese. Ma questo qui è per i tre notori questo passaggio? Penso di sì! Credo di sì, ma non vedo il fumo, quindi sì. Ma si vede benissimo. Caspita! Ma perché non siamo mai venuti di qua? Eh, perché? Perché, zia? Ciao! 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 Buona gita a tutti! Ciao! Esatto, esatto sì, è proprio una cosa che non si può definire, proprio una meraviglia, una meraviglia. Vada là che non si vede. A dicembre veniamo alla sera a vederlo. Oddio! C'è un bello buio. Eh! Vada, si vede ancora, vada! Si vede ancora, vada, si vede ancora, vada, ma vada che roba! Sì, sì! Vieni, passi indietro. che non si vede ancora, vede ancora. Veda, sa cosa prima. Veda, ragazzi. Veda, ragazzi.